Negli ultimi anni all'interno del mercato serratoriero è sorta l'esigenza sempre più pressante di garantire prodotti e servizi innovativi per i nostri clienti con elevati livelli di sicurezza. Queste logiche di mercato hanno portato Cisa ad investire nello sviluppo di nuovi processi tecnologici per accrescere le proprie capacità di offerta. In particolar modo la richiesta del mercato è mutata passando da produzioni di massa di poche tipologie a produzioni di nicchie ricche di personalizzazioni altamente diversificate e con elevati standard di sicurezza. In quest'ottica ha deciso di realizzare una nuova linea di finitura per corpo cilindro che punta ad integrare le varie lavorazioni in un unico processo, dove prima si avevano invece numerose fasi di ripresa sul pezzo. Grazie alla collaborazione con 2P in qualità di sistema integrator si è proceduta alla realizzazione dell'impianto che ha richiesto circa 14 mesi e si compone di 22 stazioni con fasi di lavorazione diverse, fra le quali ad esempio la foratura antitrapano, la tappatura e la marcatura laser. L'impianto nasce fin dall'inizio come un concerto di 22 piccole macchine che debbono lavorare rispettando le tolleranze di disegno, le tolleranze di lavorazione, debbono lavorare come proprio un'orchestra in completo accordo, realizzano la finitura del cilindro con un tempo ciclo di 7 secondi per ogni pezzo, vengono gestite le anomalie, gli allarmi, in modo che l'operatore finale debba effettivamente interfacciarsi con la macchina in modo semplice, intuitivo e soprattutto efficace. Quando 2P ci ha sottoposto l'applicazione CISA, dopo un'attenta valutazione abbiamo deciso di proporre la piattaforma Sismac perché era quella che forniva le maggiori performance per la gestione di questo impianto. Perché questo? Perché con un solo controller siamo in grado di gestire tutte quelle che sono i dispositivi in campo, quindi gli assi lineari con la precisione del micro, gli assi rotativi con la precisione del millesimo di grado, oltre che chiaramente tutti i dispositivi che possiamo raggiungere con la rete, il field bus del sistema che è appunto l'Ethercat. Un machine controller che è in grado di gestire tutte le funzioni necessarie, quindi le funzioni di logica, le funzioni di motion, le funzioni di sette della macchina. Da un unico punto di connessione che permette sia di sviluppare il programma ma fare anche debugging e questo sia in modalità locale ma anche in modalità remota con la teleassistenza. Quindi 2P fondamentalmente può fornire un servizio di teleassistenza da proprio ufficio a CISA senza dover spostare i propri tecnici. Cercare di personalizzare una soluzione che prevede comunque 22 stazioni che lavorano in sincrono tra di loro ha richiesto a 2P lo studio di un progetto che fosse comunque complesso in partenza, salvo il fatto di renderlo facile all'operatore. Per gestire una mole di dati, ingressi, uscite, scambio di informazioni tra i singoli device anche di terze parti. Chiaramente abbiamo dovuto cercare una piattaforma che ci sostenesse in questo e ci garantisse una semplicità d'uso e una capacità di elaborazione di dati. L'abbiamo trovata nella piattaforma Sismac che si sposa con il prodotto tecnologico CNC che è l'NJ dove tramite anche il bus EtherCAT riusciamo a gestire questa molle di dati in tempi record. Nel caso specifico di CISA in più abbiamo valorizzato quello che è l'aspetto dell'alto potere di connettività della piattaforma Sismac. Infatti diciamo a livello rete di campo, quindi Fieldbus, abbiamo utilizzato EtherCAT e ci ha permesso di andare a gestire dispositivi anche di terze parti come ad esempio i manifold per gli attuatori pneumatici. Mentre a livello di Ethernet, con la porta Ethernet integrata sul machine controller e con le sue caratteristiche di multiprotocollo abbiamo avuto la possibilità di comunicare in data link, quindi programless, con dispositivi di terze parti per la misurazione dei pezzi meccanici e al tempo stesso utilizzando il protocollo TCPIP siamo stati in grado di trasferire le informazioni necessarie al sistema di codifica laser. Grazie a questa nuova linea possiamo produrre un particolare in soli 7 secondi, incrementando i volumi di produzione annui e riducendo a zero i tempi di cambio lotto, senza interrompere la produzione. Abbiamo inoltre razionalizzato i flussi produttivi, con conseguenti semplificazioni gestionali, riducendo i tempi di flusso per accelerare i tempi di risposta al cliente. Alla luce di questo abbiamo accresciuto l'affidabilità dei nostri sistemi produttivi ed elevato la qualità delle soluzioni offerte al mercato.